Una bellissima manifestazione anche alla premiazione stessa, abbiamo avuto pur con tutte le difficoltà che ci sono di spostamento in questo periodo nella nostra provincia, la presenza del dottor Vicarello che è stato il vincitore del primo premio, che è venuto da Lampina, abbiamo avuto la presenza di alcuni componenti della giuria, di Mauro, di Carlo, abbiamo avuto la presenza del dottor Vicarello della provincia, dell'assessore Budestano, la massima autorità, il signor Questore, il Presidente della Capitaneria, il Viceprefetto, l'ottore Salas, il provveditore agli studi e tanta gente. Relativamente a una premiazione per un concorso in poesia, come ho detto nel mio saluto, magari altre iniziative richiamano più persone, ma noi riteniamo che questa sia una strada percorre, anche perché la giuria che è stata costituita quest'anno grazie a un nostro amico, a Dante Maurizio, che ringrazio anche pubblicamente, siamo riusciti a mettere in piedi una giuria sparsa in tutta Italia, con una Presidente, la Nini Di Stefano, che ha fatto un'apertura alla nostra associazione su questo premio, che se riusciremo a percorrere questa strada, farà senz'altro onore a Iberia di Sarabugia. Perfetto, grazie.